Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Terminator Rise of the Resistance Gioco cooperativo della River Horse ed edizione italiana della Weird Edizioni Che io ringrazio di cuore immensamente per avermi offerto questa copia, la scatola di base per la recensione Ed un gioco su cui è stato fatto un Kickstarter per la traduzione italiana Chi ha fatto il Kickstarter ha ricevuto il gioco più l'espansione che ora vi faccio vedere Poi ci farò comunque un video a parte e ve la mostro soltanto Ma ovviamente versione italiana che è già anche in retail Quindi se non avete fatto il Kickstarter non vi preoccupate perché la Weird Edizioni l'ha portato in Italia E lo trovate in tutti i migliori negozi Ve ne parlo a breve dopo la sigla Terminator Genesys Rise of the Resistance è uscito insieme all'espansione totalmente opzionale Che vedete qui davanti, Fall of Skynet Però che vi consiglio caldamente di prenderla perché poi ci farò un video a parte Va a ampliare il gioco e inserisce molte più missioni, inserisce nuovi personaggi, inserisce oltretutto nuovi boss Quindi nuove miniature dentro, come se già non ce ne fossero abbastanza In più una modalità per crearvi le missioni randomiche in casa e per trasformare il gioco base in un'avventura praticamente infinita Quindi se vi dovete fare un regalo, anche a maggior ragione perché tutte e due insieme li prendete tranquillamente con un centinaio di euro Vi consiglio di prenderla insieme Parlando di Terminator Genesys, l'avete visto al cinema, un film che non ha avuto un grandissimo successo Ma anche perché, faccio questa piccola anticipazione, la saga di Terminator per i fan e di puristi della saga come me È finita con Terminator 2 Terminator 1, film cattivo, cruento, Schwarzenegger che deve uccidere Sarah Connor Terminator 2, Cole, Tim Mill e tutto quanto che deve uccidere John Connor Però i primi due film sono quelli più belli come meditazione e tutto Terminator 3 è stata robetta Terminator Genesys, sì bellina la trovata che il T-800 combatte contro la sua versione del passato E poi per non parlare dell'ultimo, che veramente secondo me ha fatto schifo Questo qui tanto tanto guardabile Però quell'altro ha fatto schifo Ora per quanto il setting non sia dei migliori di questo Terminator Genesys Il gioco che ne è uscito è veramente una figata Poi al solito la valutazione ve la do in fondo Però qui ci vedono in battaglia contro le macchine e contro Skynet Tutto ambientato nel futuro E praticamente il gioco Genesys è ambientato prima del film L'avete visto nel film quando John Connor Manda Kyle Reese nel passato per salvare Sarah Connor E quindi era suo padre praticamente Voi dovete giocare tutta quanta la campagna Che vi porta fino dentro la base di Skynet Per andare a trovare la macchina del tempo per tornare nel passato Quindi è tutto ambientato nella guerra del futuro E la versione follow Skynet che vi dicevo prima dell'espansione Invece conclude tutta quanta l'epopea E con questa arriverete direttamente a distruggere A disattivare Skynet Quindi magari a salvare il mondo Quindi prendendo quest'altro fate un gioco completo Gioco cooperativo Gioco con delle meccaniche molto secondo me innovative E anche particolarmente divertenti e ben riuscite E la traduzione in italiano è fatta veramente bene Vi faccio vedere un pochino come funziona Ma prima di tutto unboxing Confezione del gioco Veramente molto bella Anche i disegni sono fatti da paura Vedete Guardian Il T-800 che è alleato con voi John Connor No scusate John Connor Kyle Reese Questo è un altro personaggio del film Che non mi ricordo chi è E la confezione è bella grande Anche perché insomma C'è decisamente abbastanza contenuto Apriamo Il manuale e il regolamento di gioco Che come vi ho detto ragazzi È uno dei pochi giochi che sarò duro io Ma a me è bastato leggerlo veramente una volta Per comprendere le regole È fatto veramente bene Poi vedete le plancette Che con le azioni che potete fare Col dado che ci potete mettere sopra Punti ferita E tutte quante la lista Dell'abilità che potete attivare Ovviamente quando vedete un quadrato così Vuol dire che per fare determinate cose Ci dovete andare a mettere sopra un dado I dadi del colore che avete scelto E tutti quanti la bomba Il segnalino pronto Il regolamento ragazzi è veramente molto semplice Poi il libro delle missioni Con tutta quanta la campagna E il setup per ciascuna mappa Comunque è veramente molto facile E poi ragazzi le illustrazioni Guardate qui L'introduzione Che vi consiglio di leggere Perché sono veramente belle Fanno parte della lore di Terminator E è fatto veramente veramente molto bene Poi è ricco anche di disegni Bello Veramente molto evocativo Qui ci sono gli hunter killer Plance dei personaggi Segnalini pronto Poi vedete tutto quanto il resto Questo è il camion Vari token che di solito Questi qui sono le coperture Vedete è un simbolo di copertura piccola Questa qui è una porta E il valore di armatura Quando subisce una ferita Questo pezzo viene distrutto E poi dopo siete bersagliabili E c'è un bel po' di roba Da defustellare I dadi di gioco Che sono i dadi che vi servono Per gli attacchi Vedete dado colpito Dado reazioni del Terminator Quando c'è un pugno Vuol dire che attivate Un'abilità speciale Poi mazzi di carte Questo è qua giù in fondo Che sono le carte Per le missioni Le carte equipaggiamento Le carte per ferire Team Mila Insomma tutto quello che vi serve Poi tutte quante le miniature Che vi ho detto Non sono dettagliatissime Ma sono belle comunque Sono veramente molto molto belle I mini droni Gli Hunter Killer In versione piccolina E poi qua giù dentro Nelle bustine Abbiamo tutti quanti I personaggi E anche i boss Tra l'altro che poi Comprando l'espansione Ne avete altre tanti C'è anche il Team Mila E tutto il resto E le basette Che sono importantissime In questo gioco Perché all'inizio della partita Dovete mettere un colore Al vostro personaggio E a una lista di nemici Dovete mettergli la basetta Con lo stesso colore Regola vuole Che quando dovete Attivare un nemico Il nemico col dado O senza Nella sua fase di attivazione Si attiva sempre Col vostro stesso colore Quindi ciascun giocatore Attiva il suo tipo di nemici Per quanto poi Nella fase dei nemici Si attivano tutti insieme E i dadi colorati Ve l'ho detto Quattro dadi Per ciascun colore Il regolamento di gioco È molto facile Ciascuno dei vostri personaggi Ha delle caratteristiche E soprattutto Delli slot In cui potete andare A equipaggiare delle armi Nonché ovviamente Un'abilità speciale Il gioco si presenta In versione normale O anche Single shot O anche in modalità campagna Dove passando Di missione in missione Il vostro personaggio Potrà prendere Punti esperienze E passare di livello Regola del gioco Base vuole Che voi all'inizio Dovete tirare Quattro dadi Del vostro colore E questi quattro dadi Daranno un valore Che è un dado da 6 Da 1 a 6 E l'andrete ad associare Alle varie cose Che volete fare Tipo che ne so Volete fare due movimenti Mettete due dadi Sugli slot del movimento Volete fare un movimento E magari Due o tre attacchi Andate a mettere Un'azione sul movimento E gli altri sull'attacchi Ed è bello Perché l'attacco Lo dovete andare a mettere Sulla carta dell'arma E magari La carta dell'arma Potrebbe dirvi Ok Se ci metti un dado Puoi fare un attacco Con l'arma Se ci metti un dado Con valore Ad esempio 5 o 6 Hai anche questo danno speciale Magari fa il doppio del danno Cose del genere E quindi è molto bello Perché ti all'inizio Quando vai a tirare i dadi Sai già cosa ti è uscito A livello di valori Sai già cosa potresti andare Ad attivare E magari sei già Dove andare a mettere Un dado Non ha valore Nel senso O che sia 1 O che sia 6 Niente ti preclude Di fare l'attacco Ovvio Se metti Un dado Con valore 1 Sul movimento Magari ti muovi Di 1 In quel caso lì Se metti un valore Di 6 Ti muovi di 6 Quindi ecco Questa differenza C'è Niente di dado Sul movimento Però per le altre cose L'attacchino Poi il dado Hanno sopra anche il simbolo Del pugno Che ti consente Quando lo tiri Di attivare Una tua abilità Abilità speciale Che richieda un pugno O se sul dado Esce un teschio Vuol dire che Il nemico che è attaccato A meno che Quel nemico Tu non lo distrugga Lui dopo Ti attaccherà Quindi se te non ce la fai Distruggere il nemico Li dai un'attivazione Fuori dal suo turno Che è una cosa Secondo me molto interessante Perché è brutto Cioè Dà più l'idea Di un gioco in contemporanea Poi si parla di Terminator T800 di là Mentre voi li sparate Non è che Terminator Sta fermo Si fa ammazzare E poi ti spara lui Nel frattempo Ti spara anche lui Con l'armi laser E c'è la possibilità Di rilanciare i dadi Utilizzando praticamente Il token del grado Non tutti i personaggi Ma qualcuno Soprattutto passando il livello Passano anche di grado E potete usare Quel token grado Tipo sergente Comandante Per ritirare dei dadi Quindi c'è la possibilità Anche se vi è venuto fuori Un tiro che non vi garba Di ritirare i dadi Ed è bello Perché avete questa riserva E con questa riserva Voi dovete organizzarvi È un gioco cooperativo Divisa missioni I tile di gioco Ci sono zone Di terreno impervio Dove vi richiede Due movimenti per muovervi Coperture Quando andate dietro Una copertura E un nemico vi attacca Prima di colpire voi Deve distruggere la copertura Ad esempio I Terminator Non vanno in copertura Di solito Tutti i nemici Muoiono con un punto ferita Soltanto Però hanno un livello Di difesa Cosa vuol dire T800 Ha una difesa di 3 Quindi ti hai col tuo fucile laser Per distruggere Devi fare almeno 3 danni 3 ferite Quindi col tiro di dadi Cercate appunto Di Se vi viene fuori un 2 Sui dadi Un 2 Due colpiti Cercate magari Di ritirare quel dado lì Per cercare appunto Di distruggere Il Terminator Inutile sparargli Per non fargli nulla Provate a ritirare i dadi E poi ci sono anche Boss più grandi Tipo il Team 1000 Il Team 1000 anche con le armi laser Non si può distruggere Non ha punti ferita Ma non ha difesa Ma ha una tabella sua Che ne so Con due colpi Gli dai meno una al movimento Con tre colpi Lo butti per terra E quindi perde il turno Con quattro ferite Invece lo butti per terra E gli ci vuole un turno in più Che vi ricordate Che poi viene mandato nel passato Per salvare Sarah Connor E ce l'hanno E ce l'hanno anche nel futuro E lui è bello Perché praticamente Quando riuscite a attivare La sua abilità Il colpo che gli ha dato a segno Non gli fa niente Quindi avete anche Un Terminator Insieme a voi Ogni personaggio È completamente differente Dall'altro Ed è un gioco cooperativo Che vi richiederà Veramente Tante ore Per essere finito Con l'espansione Che potete crearvi Anche missioni aggiuntive E ce ne sono già di suo Una ventina Di missioni aggiuntive Diventa un gioco infinito E ragazzi È veramente Una figata È veramente Fatto bene E regolamente Semplicissimo Cioè si spara Si ammazza In più vabbè Anche da fare azioni Di interazione Attiva un terminale Cose del genere Però è molto bello È veramente Molto 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 dinamico E può mica anche l'idea Che si possano attivare Nemici del tuo stesso colore Nel caso ti esca Un simbolo Insomma un tesco Che poi la testa Del Terminator Quando fai un attacco Magari ti è attaccato Però il nemico Ti ha risposto al fuoco Veramente molto interessante In conclusione Questo è Un dungeon crawler Fondamentalmente Si va avanti Si abbatte il nemico Che arrivano Più o meno ad ondate Poi comunque Dipende anche dalla missione È un gioco Molto dinamico Che sfrutta Le coperture Quindi anche Ricorda un po' Gears of War Dovete Doversi buttare in copertura La copertura Subisce tot danni Viene distrutta Dover guidare camion Perché poi L'immagine più iconica È il camion Che sfonda Magari un muro Prende in piano il Terminator E l'attacca alla parete Come abbiamo visto anche nel videogioco Ed è Un gioco Per quanto L'ambientazione Del film Non è delle migliori L'avrei preferito Ambientato un Terminator 1 o 2 Però non cambia nulla Che alla fine Siete dei ribelli Con le armi laser Che vanno a combattere Conto i Terminator Forse Forse L'unica cosa Però forse diventava Leggermente troppo macchinoso L'avrei preferito Che le armi laser Tu al plasma Le armi al plasma Tu non ce le avessi di partenza Le dovessi trovare nel loot Oppure Fabbricartele con i punti esperienza Perché era più bello Vedere che ti veniva incontro Un T300 E lo buttavi giù Con un M16 Perché morivano Lo sapete Quando arrivava il T800 Magari gli sparavi Con le armi normali Non gli facevi niente E allora dovevi correre i pari Perché è imbattibile Come dice Kyrie Se non so se lo potrò fermare Con le armi degli anni 80 Però sarebbe stata una figata Doverla trovare S'arma al plasma Dovetela costruire sul campo Invece qui ce l'hai già Quindi Non c'è il T300 Sono tutti i T800 Che ti vengono addosso Tanto con una ferita L'ammazzi Io l'avrei fatto un po' più creepy Mettiamola così Però va bene Mi garberebbe Non penso faranno altre espansioni Non penso Però spero di sbagliarmi Mi piacerebbe Una terza espansione Che ci porta ai giorni nostri Col Terminator Che te lo devi abbattere Però Che nemici ci metti poi Cioè ci può mettere un nemico Solo che è il Terminator Non può andare a sparare Alla polizia Come è nei PC Quindi il gioco è completo E va bene così È un gioco assolutamente per tutti È un gioco facilissimo Da apprendere E come hanno detto Su Board Game Geek Hanno detto ragazzi È una piccola perla Su Board Game Geek Ha preso 8.3 Ripeto di che stiamo parlando Non è facile dare voti Ragazzi 8.3 Nemmeno Io per non voglio dire cavolata Ma mi sembra che Nemesis Ha preso un voto alto Del genere 8.3 Per un gioco Che è Quasi completamente Anonimo Se non ce lo portava in Italia La weird edizione Che tra l'altro ringrazio Ancora una volta E invece È una figata Funziona bene Funziona bene come regole Funziona bene come idea E soprattutto E soprattutto I tile Sono fatti bene Forse le miniature Non sono il massimo Dello spettacolo Però sono tanti I tile di gioco Sono fatti bene Quindi passate a pieni voti Ed anzi Non l'ho messo Nei consigli Per farvi un regalo Vi ce lo metto assolutamente Quindi ringrazio La weird edizione Se lo volete acquistare Vi ricordo Primo link in descrizione In sovraimpressione Da Get Your Fun Al miglior prezzo sul mercato Ce l'hanno Ma nel caso Non lo doveste trovare In lista E mi sembra proprio Che ce l'abbiano Perché comunque Sempre da loro Ho preso l'espansione Mandate una mail Al servizio Clienti E diteli Arrivo dal canale di Coridan Questo gioco Non ce l'avete Ma si può ordinare comunque Ve lo faranno avere Al miglior prezzo sul mercato E se non lo volete pagare Tutto insieme Lo potete dividere In tre rate Una al mese Senza nessun tipo di finanziamento Ragazzi Fatemi sapere un po' Cosa ne pensate Io ancora una volta Ringrazio di cuore La weird edizione E niente È una figata Siete fan di Terminator È il gioco più bello Secondo me Che potessero fare Veramente Gli è uscito Gli è uscito Spettacolare Ciao ragazzi Alla prossima